Per i campionati provinciali tutte le categorie sono state divise in due batterie. Nella prima si sfideranno le femminucce, mentre nella seconda sarà la categoria maschile a darsi battaglia. E alla partenza troviamo infatti gli atleti della G1 maschile che si sfideranno su due giri del percorso. La velocità è davvero elevata e il gruppo si allunga in fila indiana e si divide in più tronconi. E all'arrivo alla meglio vicini Luca della Villongo che va a conquistare l'ambita maglia di campione provinciale, precedendo Persico Davide della Gazzanichese, Brioni Iuri dell'Albano Ciclismo, Plebani Nicola della Villongo e Zucchetti Michele del ciclo team Nembro.